Allora, il team ma qua pure devo fare monocolore qua, c'è, tutti i cazzi Sì Penso usare support Con pisello e verdura, lo sai, ti piace il pisello? Eeeh, io non so un elemento com'è, pure questo dura uno stage o ci so più stage? Se ci so più stage posso portare Broly, se no mi riporto lo stesso team di prima Quello però in casa a parte Come sempre senza support, sì, visto che non conosco manco lo stage, al massimo uso dopo Golpo su PGP, sbagliato e sei morto, va bene, accetto la sfida Metti Biobroly, ma vaffanculo Biobroly, 100 per Janemba, 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 Janemba Per il momento non ha un cazzo di strano Vediamo questa sua particolarità dove sta Olè, non ho la 22 ki, porcaccio Ciao, sono appena entrato, cosa è successo di bello? Un sacco di cose Tipo quella che sta per vedere adesso Ah, ma questo è come Kid Boom merda Più lo attacchi e più ti vuole rompere il culo Ecco perché andrà a fare dei danni Questo è fisico Vabbè, se il max se lo metto, mena Si, ha scritto una cosa nella sua passiva, eh Più gli rompe il culo e più lui te lo rompe Vabbè, due barre vita se ne sono andate Cioè, fa Broly a quello di mandare gli attacchi al pugno senza setup Ok Ah, ma il buff è solo per quel turno Broly, chill, chill uomo, chill Io ho capito di cui siete a paura Ma è una cazzata allora se è solo per quel turno Ma fa schifo Oddio, colore di vantaggio, 40% di tiere e già 40.000 di pugni Ah, vabbè, ma è una ultrasium allora Ecco, abbiamo un piccolo problema Broly Int Vorrebbe darci dei piccoli problemi Visto che non ho la guardia attiva Perché ho Golden che mi ha sfanculato Broly Porco di Dio Vabbè, lo faccio attaccare subito in modo tale da Prendermi il meno danno possibile Vabbè, tre barre vita se ne sono andate Cioè, se è solo questo l'evento è una cazzata Certo, mi becco ma una special Broly Probabilmente sono morto Perché non ho guardia attiva Però Porco ho sfigato il turno Bravo Broly Tech che ha fatto meno Bravo Genemba, mi sei piaciuto Cioè Tranquillo Bisogna testo Broly post special I pugni, quanto prende? Se devi fare un add, fallo di special Non di pugni Chill ragazzi, chill Quindi se lo faccio veramente al primo try Me ne vado Cioè Lettamente chiunque mi sta a parlare Che è un evento complicatissimo Non lo faccio al primo try Ci muoio per forza su qualcuna cazzo Tipo Broly e C-Life che non prendono le orb Potrebbe essere un'alternativa Quattro barre vita andate Tu 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 MuVIROS Vabbè MuVIROS Vabbè Vorrei vedere però una special su Genemba Ma io devo so curiosi dei quanti anni fa sta cosa Vabbè SimuViros sta giusto leggermente giocando uno dei team più forti del gioco sai Per buttar giù quel team ci vogliono altri vent'anni del gioco Sì il problema è che questo Broditek non fa di special Eh letteralmente lo sto distruggendo Genemba Però non mi fate add di pugno fatemi add di special Allora se lo stack fosse stato fisso Probabilmente era abbastanza complesso Ma era lo stack durante turno Ci guarda un crit? Poteva essere complesso E invece Cioè addirittura questo è più semplice di con Genemba Erdominos Dominos Parapapapapapapadominos Eh mi sa che Se noi chiudiamo adesso manca bo Dominos Poi gli troppo pure la def vabbè Dominos Dominos Quattro or brembo godo Subito special Ve la vedi pure Genemba Manca di sai si fa prima hit'a un po' Troppo pure la def Che fa male Però Se non si fa set up Non c'ha senso Eh bro non gritta Porco Cioè Eritamente potevo finire già due turni fa Se tutti avessero grittato Invece no Non è che lancia due special a turno Almeno c'è prova Boh Dopo mi vado a leggere l'evento Perché mi sembra veramente troppo semplice Cioè o c'è un'altra fase o non mi so spiegato Fatto di una nonchalanza che non c'avete Non c'è No è finito Primo try Dove sono le mie mille sub Boh vabbè Dipende Potevano renderlo complesso Ma l'hanno reso come sempre una cazzata Ma GG